Eccolo! 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 Un orso! Un orso! Un orso! È uscito dall'orso! Un giovane orso marsicano, visibilmente disorientato e terrorizzato, è stato visto lo scorso fine settimana in pieno centro a Celano. La corsa disperata, tra vie e vicoli, con il rischio di finire anche investito da automobili o procurarsi delle lesioni nel tentativo di aprirsi un varco, sta facendo il giro del web. L'orso, forse uno dei quattro cuccioli dell'orsa marena, visibilmente impaurito, si è dileguato nelle campagne vicine. L'orso è stato avvistato proprio qui? Sì, proprio qui. Ci stava una signora in macchina con i bambini e ha visto l'orso di uscire da qui. Poi qui evidentemente è stato disturbato e ha preso la strada qui via Roma e è andato sotto, è andato giù. E la signora, per l'entusiasmo dei bambini che stavano dentro la macchina perché non è una cosa usuale vedere un orso qui a Celano perché diciamo che questo è stato un evento del tutto eccezionale perché non è una cosa che si ripete spesso, anzi che io ricordi non è mai successo che un orso sia venuto qui a Celano. Un'orsacchiotta, era piccola quella che hanno visto di sera, però tutto sommato ci stanno pure le altre cose, c'è pure un lupo che viene sempre vicino al palazzetto dello sport giù a Celano, tutto qua. L'ho visto sul telefonino, quando sono venuto ieri mattina ci stava un altro della comunità montana per vedere se aveva fatto danni o meno e non c'è niente. Poi l'hanno visto scendere giù. Comunque si dice che erano due, invece uno solo, è sempre lo stesso che ha fatto questo giù, che l'hanno visto da dietro là salire al parco delle rimembranze, poi è sceso qua e quello che l'ha ripreso con la macchina l'ha portata, ha visto di scendere da là, è arrivato qua, è ritornato indietro, quando è tornato indietro ha visto proprio l'orso e l'orso e l'hanno seguitato ma non l'hanno inseguito, è piano piano. Le associazioni difesa dell'orso marsicano chiedono interventi a tutela ma anche il rispetto da parte della gente. È la prima volta che capita? A Celano che io ricordo sì, la prima volta. In passato ci sono stati qualche mese fa avvistamenti di lupo, cervi, camosci, qui in mezzo alla pineta sta pieno, sta pieno perché qui facciamo parte del parco di Lino Sirente e quindi diciamo è all'ordine del giorno. Quello degli orsi invece è stata una bella novità, peccato che la gente si è fatta prendere dall'entusiasmo e qualcuno ha provato pure il rincolo, sbagliando, però bisogna capire un momento e l'occasione insomma, non è un evento che capita tutti i giorni.